io d'artufo avvicinato del dottor flanco durantini c'ha data lei e dopo vabbè e vabbè la gente noi c'ha un po' c'è esperienza brava maia brava si gente ne ha trovato un altro fra guarda la tua sinistra in alto a te facci tu così viene in maglia brava già l'ha preso l'ha preso l'ha preso prendilo tu ok eh questi qualche d'uno è rovinato va bene va bene ah ci sta? ah va bene va bene va bene lascia stare